Adesso ancora un'altra notizia di cronaca. Un 84 anni di Lanciano è morto sulla spiaggia di Sfossa Ciesia. L'uomo stava per fare un bagno quando ha avuto un malore fatale, si è accasciato in mare e ha ingoiato molta acqua. I soccorsi sono stati tempestivi da parte del servizio di sicurezza dei bagnini e del 118, ma i sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione purtroppo inutilmente. Sul posto sono giunti per le indagini i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto di Ortona.